Ciao ragazzi, benvenuti sempre a quest'ultima giornata di Training Camp. Siamo giunti al termine dell'ultima partita tra le squadre di Di Giovanni e di Bondonno. La partita si è conclusa con uno schiacciante risultato per un 9 a 4 per la squadra di Di Giovanni. Faccio presentare i ragazzi... Biscardi, Struzzi, Di Giovanni. Faccio presentare la squadra di Bondonno, il capitano... Bondonno Fabiano. Giulio Ingo. Il portiere. Il portiere, lui si chiama il portiere. Il portiere. Il tuo nome, no? Di Dato. Di Dato. Il portiere. Il portiere. Il portiere. E poi facciamo presentare lui, che non so che ruolo... Mascotte. Giorgio Catone. Sei triste, Catone? Eh, non male. Me ne vado a casa. Allora, gol di Di Giovanni, Maurizio, giusto? Tripletta di Biscardi, tripletta di Sorrentino, un gol di Vollaro e un gol di Pero. Gli autori dei gol? Eccovi qua. A chi li dedichiamo? Alla fidanzata e poi tutta la squadra. Giusto. Tu a chi dedichi la vittoria, visto che non hai segnato? Alla squadra, perché questa era la prima partita e quindi la dedico a loro, a tutta la squadra. Sei soddisfatto? Sì. Perfetto. Tu? Direi alla ragazza e alla squadra. Io ti dedico pure a Francesco Monda, grande giocatore, nostro mascotte. Va bene. Faccio parlare un po' Fabiano. Che ne pensi, Fabiano, di questa prestazione? Che schifo. Veramente che schifo. È vero che loro erano di master, però veramente noi facciamo sempre più schifo. Partita dopo partita. Invece di migliorare, peggioriamo. Cristian Sambolo sei andato negli spogliatori, indignato. No, Cristian è arrabbiato, lo capisco, quindi lasciamolo stare, facciamolo bollire nel suo brodo. Vi rifarete in questa settimana? Ci penserai a come migliorare la tua squadra? Sì, non tengo niente da fare, assolutamente. Credo che la mattina mi sveglio e inizio a pensare alla mamma. Presto però ti devi svegliare? Sì, sì, alle 7 sto in piedi, è della sera però. Devi mangiare solo la sera perché tutta la giornata poi sei impegnato a pensare. E va bene così, me ne va da dire. Buonasera, ciao mamma. Dio, ciao. Io non ho niente da dire, abbiamo fatto schifo. Hai ragione, scusami, hai ragione. Ma mi sono scordato di dedicare i gol, chissà che io ne sono uno dei pochi. È vero, tre o? Tre gol, una grande tripletta, gli dedico tutte e tre alla mia ragazza. Salutiamo, ti segue sempre anche quando perdi. Sì, sì, soprattutto quando perdi. Cioè sempre. Tu vuoi dire qualcosa? Eh, sto in lutto. Che schifo perché hanno detto tutto, quindi... No, non sto in lutto, io sto proprio in lutto. Io non sono portiere, sono venuto qua tanto per dare una mano e... E non è servita. È anche un pregio. Catone, vieni qua, spendi tu una parola per questa squadra. Fortissimi. Big bubble, buon donno. Facci un saluto così ce ne andiamo a casa. Un bacio a tutti i miei fan. Sono il numero uno. Sicuro. Arrivederci.